sono qua in camera adesso e al combini sotto l'hotel ho preso questo che è un tramezzino alla crema di arachidi è molto molto buono l'avevo mangiato anche l'ultima volta che sono stato in giappone davvero davvero buono e questa invece sembra una macchia vedete invece è la forma di un arachidi gli hanno come stampata sopra con un po di salsina davvero buonissimo secondo me eccolo qua il paninetto tramezzino al burro di arachidi è proprio buono ne volete un pezzo